Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con la cronaca giudiziaria perché tre camorristi sono stati arrestati a Napoli dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza grazie alla collaborazione di uno spacciatore molisano con la procura di Campobasso. L'indagine è uno sviluppo di piazza pulita e il pentito ha raccontato di come si rifornisse di droga dai tre e spacciasse cocaina su Boiano e dintorni in otto mesi un giro di affari da mezzo milione di euro. In apertura Tonino Danese. Non è un fatto sconosciuto che la camorra abbia puntato il Molise utilizzando lo spaccio di droga per penetrare nel territorio. Procura di Campobasso e forze dell'ordine sono impegnate in una serrata lotta. Carabinieri e Guardia di Finanza dei comandi provinciali su ordinanza del GIP hanno arrestato a Napoli e provincia tre persone ritenute legate al clan camorristico Sautto Ciccarelli. Due erano libere e una terza ai domiciliari già arrestata nell'ambito dell'operazione piazza pulita. Sarebbero responsabili di estorsione aggravata da metodo mafioso e uso di armi e di spaccio di cocaina in Molise in particolare su Boiano e dintorni. In otto mesi un giro di affari di mezzo milione di euro indagine che sviluppo dell'operazione piazza pulite della terza che si conclude con misure cautelari nei confronti di persone che hanno a che fare con associazioni mafiosi, ha spiegato il procuratore capo di Campobasso Nicola D'Angelo. Nel caso di specie hanno portato circa 5 kg di cocaina venduti nella zona di Boiano e dintorni, per dintorni non mi riferisco a Campobasso ovviamente, 5 kg venduti in 7-8 mesi a un prezzo di realizzazione di circa 500 mila euro e che loro portavano ricevendo 220-230 mila euro di guadagno. Parliamo proprio di portare nel Molise la droga perlomeno a mezzo chilo alla volta se non un chilo per volta, da parte di persone comunque legate a contesti criminali preoccupanti e che quando venivano in Molise per dimostrare ulteriormente il loro spessore venivano normalmente armati. Per arrivare all'arresto dei tre hanno spiegato anche i comandanti provinciali di Carabinieri e Finanza di Campobasso, i colonnelli Luigi Delegrazie e Antonello Cefalo, è stata fondamentale la collaborazione del capo di uno dei gruppi malavitosi coinvolti nell'operazione Piazza Pulita che ha raccontato di come si rifornisse di droga dai tre droga che veniva portata a Boiano e che lui rivendeva sul territorio con alti profitti. I tre si muovevano in gruppo e armati avrebbero indotto il futuro collaboratore di giustizia a rifornirsi da loro di droga a Napoli anche con estorsioni. Un primo collaboratore di giustizia, forse il primo molisano a tutti gli effetti, che era uno poi dei soggetti arrestati nell'indagine Piazza Pulita e che ci ha descritto quello che è successo nell'intervallo di tempo tra la chiusura nostra delle indagini che è avvenuta a metà del 2019 e l'esecuzione delle misure cautelari che hanno interrotto le attività nel maggio 2020. È ovvio che in quell'intervallo di tempo l'attività di spaccio è continuata con le stesse modalità e quindi ha indicato chi erano i suoi riferimenti sulla zona. Collaboratore che ha raccontato dei suoi viaggi a Napoli, di incontri con persone armate in luoghi dove arrivavano anche ragazzi a portare soldi in buste della spesa, tanti provento di spaccio e dove ha sentito parlare di Molise come terra di conquista della malavità. Purtroppo la droga genera altri reati e il ragazzo morto la notte di Natale senza la droga sarebbe ancora vivo, ha detto D'Angelo, secondo il quale si deve fare di più perché il fenomeno è preoccupante e se a Campobasso puntando sul recupero di tossicodipendenti e la riduzione dei quantitativi di droga venduti si possono avere risultati a lungo termine sulla costa la situazione appare differente. Perché già c'è un passo più avanti, la criminalità organizzata si interessa, diciamo delle attività economiche sulla costa e devo dire c'è anche, si percepisce nella nostra attività una minore propensione alla denuncia. Intanto a Roma nella sede dei carabinieri del reparto scientifico c'è stato oggi il primo incontro tra i periti di parte e quelli incaricati dalla procura di Campobasso per gli esami irripetibili sui reperti sequestrati nell'ambito del delitto della vigilia di Natale. È stato stabilito un calendario di lavoro durante il quale saranno esaminati i quattro telefoni sequestrati, le impronte e le macchie di sangue, gli abiti e il coltello utilizzato durante la lite culminata con la morte di Cristiano Micatrotta. E ora veniamo all'andamento della pandemia. Nel bollettino di oggi contagi in leggero calo 507 i nuovi positivi. Come ogni venerdì è arrivato anche il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. In Molise salgono indice RT e incidenza ma i ricoveri restano sotto le soglie d'allarme. Omicron intanto sfiora il 100%. Il servizio con tutti i numeri della giornata con Enzo Luongo. Contagi in leggero calo nelle ultime 24 ore in Molise. I nuovi positivi sono 507 su 3.653 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività dunque scende al 13,8%, lontano dai picchi di inizio anno quando era arrivato a sfiorare il 30%. In aumento invece i ricoveri, due nuovi ingressi al Cardarelli, si tratta di pazienti da Larino e Termoli. I guariti nel bollettino sono 110, gli attualmente positivi 7.346. Quanto alla provenienza dei nuovi casi del giorno, la novità più rilevante è che non ci sono comuni sopra i 100 casi. In testa c'è Campobasso con 93 nuovi contagi, poi Termoli con 59 e Venafro con 28. Numeri a due cifre anche a Boiano con 15 casi, San Martino in Pensilis con 21, Ripalimosani con 12, Campodipietra con 11 e Frosolone con 10. Come sempre il venerdì è arrivato anche il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento della pandemia. Il Molise resta a rischio moderato con l'indice RT che sale dall'1,4 della settimana scorsa all'attuale 1,9. Sale ancora l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti che ora è 1.258, al di sotto comunque della media nazionale che è 1.988. Resta sotto le soglie d'allarme l'occupazione dei posti letto, 5% in terapia intensiva dove la soglia d'allarme è 10 e 10% in area medica dove la soglia d'allarme è 15. Intanto siamo dopo la Basilicata che è al 100%, la regione italiana con la variante Omicron più presente. Ha raggiunto a livello locale il 97,8% al di sopra della media nazionale che è all'81%. E fine settimana di screening sulla popolazione studentesca in molti centri della regione nei quali le scuole sono rimaste chiuse a causa dell'emergenza Covid. Una decisione quella assunta dalle amministrazioni comunali per consentire un rientro in classe in sicurezza lunedì 17 gennaio. A Campobasso test antigenici gratuiti e volontari domani e domenica sugli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia. Screening anche a Termoli, Boiano, Porto, Cannone, Pietra Catella, Montenero di Bisaccia, San Martino in Pensilis e torneranno in presenza sempre lunedì anche gli studenti di Casa Calenda, Riccia e Trivento. Dunque scuole aperte, scuole chiuse. Il tema divide tutti dal governo alle regioni, operatori e famiglie. Diverse anche le impostazioni dei sindaci cui spetta l'ultima parola. Divisi tra posizioni rigoriste e talvolta ideologiche. Sentiamo il commento di Pasquale Di Bello. Scuole aperte, scuole chiuse. Dad sì, dad no. Il tema altamente divisivo ha letteralmente spaccato in due il paese. Dal governo alle regioni, dalle famiglie ai comitati, passando per i dirigenti scolastici e gli operatori di settore. Ultimi, ma anello più importante della catena, i sindaci cui spetta come autorità sanitaria sul territorio l'ultima parola. Differenti le posizioni tra i primi cittadini, tema al quale il Molise non fa eccezione. E a non fare eccezione è anche lo spartiacque che divide le posizioni in campo. Una linea di confine che vede contrapposte da un lato la tesi dei rigoristi, fermamente ancorati al dato e alle verifiche scientifiche. Vedi contagi, vaccinazioni e tamponi. E dall'altro, chi influenzato da un retaggio ideologico sotto traccia, sembra seguire più gli umori del momento e della piazza che le effettive risultanze oggettive. A ben vedere, il criterio da adottare come bussola appare nel caso della scuola uno solo, o almeno questo in particolare. Lo screening preventivo della popolazione scolastica, unico strumento che consente, sulla base del dato finale, di decidere l'apertura o la temporanea chiusura di classi, scuole e istituti e quindi l'adozione della didattica a distanza, strumento utile ma solo in fase di emergenza. Lo screening preventivo della popolazione scolastica, accompagnato da una generale valutazione del livello di contagio nelle città e nei paesi, risulta la sola strada oggettivamente attendibile a cui i sindaci possono fare riferimento. Ciò impedirebbe di chiudere le scuole davanti ad un numero contenuto di contagi, salvo poi riaprirle inspiegabilmente quando i contagi schizzano in alto. Si rischia in questo caso di alimentare la confusione, il disorientamento e l'innesco di una schizofrenia didattica che a distanza o in presenza, invece di essere parte della soluzione, rappresenta una parte del problema. Il Molise in perfetta linea con l'Italia non è esente da questa schizofrenia amministrativa. Intanto anche in Consiglio Comunale a Campobasso i pareri sul ritorno a scuola sono discordi. Dal centrodestra prendono posizione Alessandro Pascale e Mario Annuario, secondo i quali aprire le scuole nel momento del massimo picco per Campobasso non è la soluzione migliore, forse dicono, sarebbe stato il caso di aspettare ancora qualche settimana. Green Pass e Green Pass rafforzato, dove è obbligatorio, dove no. C'è confusione sulle norme del governo e per molti la soluzione a tutti i dubbi è avere tre dosi di vaccino. Ma gli Sernini hanno capito come funziona? Andiamo a vedere con Valeria Migliore. Green Pass e Green Pass rafforzato dal primo febbraio. Oltre all'obbligo vaccinale per i cinquantenni scatteranno anche le nuove regole del governo sull'accesso a mezzi pubblici, attività commerciali e uffici. Tuttavia per i decreti che si accavallano con novità costanti c'è confusione tra le persone. Gli Sernini avranno capito davvero tutte le regole del governo? Io non ci ho capito proprio niente dove serve e dove non serve. Hanno fatto una confusione. Tanta confusione ma speriamo che non usciamo da questa pandemia. Le cose sono un po' discordanti sai. Una volta dicono una cosa poi si cambia. Per me è chiaro che serve da ogni parte. Forse viene un po' in maniera giusta e ceduto no? Cioè viene un po' esasperato. Asperato, però in maniera corretta giusta. Io ho sempre seguito le regole che ci hanno detto. È andata sempre bene così. Fino a quando andiamo avanti, andiamo avanti e seguiamo le regole ecco. Sì sui mezzi sì soprattutto perché secondo me il problema più grave che c'è. I mezzi sono sempre, quasi sempre sovraffollati. Quindi fare un controllo penso che sia la cosa più giusta. Io entro in un negozio e mi chiedono il Green Pass. Chi è che me lo chiede? Me lo fa vedere chi me lo chiede? Io lo chiedo a tutti. In zona autorizzata. Come non c'è chiarezza io di solito lo presento sempre perché ce l'ho. Quindi ho risolto alla base. In questa confusione è risolto alla base. Lo presento sempre. L'unica soluzione per qualcuno è quella di aver completato il ciclo vaccinale con tre dosi e avere così la certezza di poter entrare ovunque facendo fronte a tutti i dubbi. Si capisce benissimo tutto. Basta avere il Green Pass con la terza dose che io non ho nessun altro problema. Vado dovunque. Sì, qualche cosa ho capito ma non... Per quanto riguarda i locali pubblici generalmente ci vuole sempre il Green Pass. E questo allora io mi sono fatto tre vaccinazioni e più mi sono fatto anche l'antinfluenzale. Voltiamo pagina. Progetto Mille esperti PNRR. Si è insediata oggi a Palazzo Vitale la cabina di regia per il Molise che è presieduta dal presidente della regione Donato Toma. L'investimento del piano nazionale di ripresa e resilienza prevede uno strumento di assistenza tecnica di durata triennale è consistente nella creazione di un pool di esperti finalizzato a supportare le amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure. L'obiettivo è quello di accrescere la capacità amministrativa degli enti che agiscono sul territorio in modo da garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione e nonché la velocizzazione delle procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti dal PNRR. E ora andiamo a Frosolone perché il Comune rischia di restare tagliato fuori dalla viabilità delle due superstrade, Bifernina e Trignina che avrebbero dovuto essere collegate tra loro dalla Fresilia. A rischio 40 milioni di finanziamento. Ci dice tutto Enzo Di Gaetano. Frosolone, il quarto centro più grande della provincia di Senia, rischia di restare tagliato fuori dai collegamenti con le superstrade Bifernina e Trignina. La regione infatti a causa dei ritardi addebitati alla provincia di Senia per la modifica dei vincoli ambientali e la definizione delle procedure tecnico-burocratiche starebbe ipotizzando la revoca e la riprogrammazione del finanziamento da 40 milioni assegnato per l'appalto del terzo lotto della Fresilia. Il collegamento Frosolone-Cività Nuova del Sagno-Trignina. Non sarebbero state attivate dalla provincia di Senia né la richiesta per variare né quella per modificare gli obblighi ambientali. Questa è la versione della regione, tanto che i sindaci di Frosolone e Agnone hanno chiesto l'immediata convocazione di un tavolo tecnico con regione e provincia per sbrogliare l'intricata matassa che potrebbe penalizzare entrambi i comuni. Da Agnone infatti si potrebbe raggiungere Campobasso attraverso la Trignina e poi la Fresilia. Qualora questa venisse completata, il problema dei vincoli ambientali sta nel tracciato da Duronia fino a Bagnoli del Trigno, un'area vasta, sottoposta a vincolo paesaggistico per la quale non sarebbe stata avviata alcuna procedura di richiesta di variazione del tracciato o modifica degli stessi vincoli non solo regionali ma anche statali, motivo per il quale, stante l'assenza di questa richiesta formale che per la regione avrebbe dovuto essere avanzata dalla provincia, i fondi destinati alla Fresilia potrebbero essere riprogrammati perché non si può correre il rischio di perderli. Il terzo lotto interessa un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e impedisce di fatto i collegamenti sollecitati da Fossolone e Agnone che vedono nella loro realizzazione un'opportunità di sviluppo imperdibile. Sarebbe davvero la fine dell'isolamento di cui soffrono le aree interne, uno sbocco importante per la zona dell'Alto Molise che guarda con interesse a quella congiunzione con la costa adriatica e l'autostrada alla quale può accedere al momento solo percorrendo una serie infinita di curve e tornanti che d'inverno diventano pericolosissimi perché attraversano aree boscose ad alte quote fino a raggiungere la Sangritana e poi finalmente l'Adriatico. Il Partito Democratico interviene sulla questione dei lavoratori forestali. I consiglieri regionali Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla hanno presentato una mozione che chiede al Presidente Toma e all'Assessore Cavaliere un impegno preciso sulle sorti di questi importanti ma dimenticati e poco valorizzati lavoratori molisani. Il superamento del precariato, spiegano, non rappresenta solo un passaggio dovuto ma una necessità per la nostra regione. Per gli esponenti del PD occorre un'assunzione minima per sette anni con più servizi e risorse attraverso un percorso nazionale promosso dalla regione molise sfruttando le possibilità offerte dal PNRR. Intanto tornano i malumori all'interno della Sevel di Atessa. Il motivo sembrerebbe legato alla notizia dell'apertura di una fabbrica in Polonia ad opera del gruppo automobilistico Stellantis. Sulla vicenda si è espressa la deputata Rosa Alba Testamento. Sentiamo Alessandra Potena. Torna la tensione tra i lavoratori dello stabilimento Stellantis della Sevel di Atessa. La causa dei malumori è riconducibile alla notizia che circola sui siti internet di un'ipotetica apertura di una fabbrica da parte del gruppo automobilistico in Polonia che produrrebbe furgoni e veicoli commerciali. La notizia diffusa per la prima volta a ottobre era stata smentita addirittura dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso un comunicato ufficiale che rassicurava i lavoratori della Sevel. Sulla vicenda ha preso di nuovo opposizione la deputata Rosa Alba Testamento. Non riusciamo a comprendere, ha dichiarato la parlamentare, quale sia la verità. Secondo la Testamento c'è da chiarire se sia affidabile la smentita del governo oppure sia proprio Stellantis a farsi beffa dei ministri Giorgetti e Orlando. Per avere certezze, ha aggiunto la Testamento, ho presentato un'interrogazione con cui ho chiesto ai ministri Orlando e Giorgetti di chiarire il ruolo di Stellantis nei confronti degli stabilimenti italiani. Ad oggi però nessuno si è preoccupato di dare una risposta. È necessario, secondo la deputata, che il governo intervenga con concretezza data la mancanza di certezze occupazionali e produttive. Finora ha dichiarato non ci sono novità nemmeno per il progetto della Gigafactory di Termoli su cui i ministri non sono andati oltre le semplici e buone intenzioni. Intanto resta alta la preoccupazione alla Sevel di Atessa, dove tra l'altro lavorano anche molti operai molisani. A Cervaro, frazione Sordella, in provincia di Frosinone, un romeno di mezza età residente a Isernia è stato aggredito, preso a pugni e ridotto in fin di vita dopo una lite causata da diverbi dovuti al traffico. L'aggressore è stato già identificato dai carabinieri sul posto, oltre ai carabinieri, un elicottero dell'Ares 118 che ha trasferito il ferito in condizioni disperate presso un ospedale della capitale. Ora andiamo a Montenero di Bisaccia, a lutto cittadino per i funerali di Vittorio Quaglia, ha scomparso in un incidente agricolo nell'agro di Mafalda. La cerimonia è stata ufficiata da Don Stefano Rossi e c'era per noi Andrea Nasillo. Silenzio e commozione per l'ultimo saluto a Vittorio Quaglia, il giovane di Montenero, vittima domenica scorsa di un tragico incidente agricolo nelle campagne di Mafalda. Un dolore senza tempo e il sostegno a una famiglia distrutta. L'addio toccante, tanta gente dentro e all'esterno della chiesa madre di Montenero. Di fronte a tutto questo è difficile, se non impossibile, trovare le parole, ha detto Don Stefano Rossi durante l'omelia, per coccolare chi sta male, e soprattutto perché sappiamo che tutti i ricordi di chi ha vissuto con Vittorio e soprattutto tutto l'amore per le cose belle non si devono mai perdere. La vita è fragilissima, è qualcosa di straordinario, ma da un momento all'altro puoi perderla. Non siamo mai preparati, per questo chiediamo a Dio di sostenerci. Montenero piange, se ne va un ragazzo per bene, i volti bagnati dalle lacrime e l'incredulità di fronte a una tragedia, troppo difficile da accettare. La memoria, ha continuato Don Stefano, ci consegna tanti gesti condivisi insieme a Vittorio, tanti gesti di bontà, tante parole che hanno costellato di luce i suoi 39 anni. Tutto questo ognuno di noi lo porta nel cuore. A Montenero è lutto cittadino, saracinesche delle attività commerciali abbassate, tutti stretti nel ricordo, tutti vicini ai genitori di Vittorio, Nicolette e Giuseppe, al fratello Guido, all'uscita del feritro dalla chiesa, un tonfo al cuore, palloncini bianchi lasciati volare verso il cielo, sulle note e le parole di My Way, a modo mio, una vita piena. Vittorio l'ha vissuta come voleva lui, conoscendo i valori del rispetto e dell'educazione, idealista, sognatore, così lo ricordano. E come dice il testo della canzone di Frank Sinatra, ho fatto quello che dovevo fare, ho vissuto tutto senza risparmiarmi nulla, ogni passo attento l'ho fatto alla mia maniera. Yes, it was my way. E ha intenzione di fare chiarezza la procura di Larino sulle cause della morte del cinquantenne di Sernia, trovato senza vita ieri mattina in un bed and breakfast a Termoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando. La procura, per non avere dubbi sulle cause del decesso, apparse in un primo momento naturale, ha disposto l'autopsia prevista per lunedì. Eletti tutti e quattro i presidenti delle commissioni consigliari al comune di Sernia. Si tratta di esponenti delle varie liste di centro-sinistra, per la precisione, Cefalogli, Dirollo, Bottiglieri e Laurelli. Tutti i particolari con Enzo Di Gaetano. Eletti i presidenti delle quattro commissioni consigliari del comune di Sernia. Per le vicepresidenze ancora non c'è un accordo tra le varie componenti della minoranza consigliare, per cui restano da eleggere i vicepresidenti di seconda e terza commissione. Ma andiamo con ordine. Presidente della prima commissione che si occupa di istruzione, ricerca, università, cultura, sport e tempo libero, in formazione, decentramento e promozione della cittadinanza attiva, sanità e igiene, è stato eletto Fabio Cefalogli del Partito Democratico. Sua vice, Elisabetta Lancellotta, di Fratelli d'Italia. Al vertice della seconda commissione che si occupa di urbanistica, lavori pubblici, polizia municipale, traffico, viabilità, tutela, paesaggio, centro storico, fiere, mercati, ambiente e trasporti, è stato eletto Andrea Dirollo Di Volt. Sulla vicepresidenza, ancora braccio di ferro, tra Cesare Pietrangelo di Forza Italia e Domenico Chiacchieri di Isegna Migliore. Presidente della terza commissione che si occupa di bilancio, patrimonio, programmazione, sviluppo economico, tributi statistica, toponomastica, cedde, politiche comunitarie, è stato eletto Mino Bottiglieri del Movimento 5 Stelle. Ferma anche qui la scelta del vicepresidente tra Gabriele Melogli, Cosmo Tedeschi e Raimondo Fabrizio. Infine, al vertice della quarta commissione, che si occupa di gestione personale, affari sociali, su app turismo, politiche giovanili, commercio e artigianato, agricoltura e imprenditoria pari opportunità, è stata eletta Gemma Laurelli di Isernia Futura. La vice è stata individuata in Linda Dall'Olio di Forza Italia. Restano così ancora vuote solo le due poltrone di vicepresidente della seconda e della terza commissione consigliare, in attesa che gli esponenti della minoranza raggiungano un accordo. Asfalto sparso a secco con la pala o addirittura con i piedi per rattoppare le buche su molte strade. Lo segnalano alcuni cittadini di Riccia alla nostra redazione, denunciando la scarsa manutenzione di alcune vie del centro, tra queste via Garibaldi, via Roma e via Marconia. Alla segnalazione replica il sindaco di Riccia, Pietro Testa, le strade in questione, dice il primo cittadino, sono tutte di competenza provinciale, non comunale, palese agli occhi di tutti, che versano ormai da tempo in uno stato di manutenzione inadeguato a garantire livelli di sicurezza. Il comune di Riccia negli ultimi tre anni, ha detto sempre il sindaco, ha più volte sollecitato l'amministrazione provinciale a intervenire, evidenziando come le numerose buche rappresentino sempre di più situazioni di pericolo, sia per gli automobilisti che per i pedoni. Sono diversi gli appuntamenti con gli Open Day degli istituti scolastici in regione, soprattutto a Campobasso, in programma tutti questi eventi domani e domenica. Giuseppe Carriera ci dà le anticipazioni. Il weekend centrale del mese di gennaio è dedicato alle attività di orientamento per molte scuole in tutta la regione. I numeri della pandemia in diversi casi hanno spinto le scuole a organizzarsi in maniera virtuale per presentare la loro offerta formativa. Come l'Istituto Tecnico Industriale Marconi di Campobasso, tre le sessioni previste tutte domenica 16, la mattina dalle 11 alle 12, il pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 17.30 alle 18.30. Le famiglie potranno collegarsi con la dirigente scolastica Adelaide Villa e i docenti per essere virtualmente accompagnati in un percorso guidato alla scoperta delle quattro specializzazioni elettrotecnica, elettronica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia, chimica, materiali e biotecnologia. Particolari le storie di successo di ex alunni che si sono affermati nel mondo del lavoro dopo essersi diplomati. Rispettando l'ordinanza del sindaco, informa invece l'Istituto Pilla di Campobasso, durante gli open day di sabato 15 e domenica 16 gennaio, sarà possibile visitare solo virtualmente gli spazi della scuola e prendere visione dell'offerta formativa tramite videochiamata su piattaforma Meet. I docenti dell'Istituto Tecnico Economico, dell'Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura, presenteranno ad alunni e famiglie le novità degli indirizzi, illustrando i tratti caratteristici delle discipline di indirizzo, con un tool virtuale degli istituti. Per collegarsi sono disponibili dei link sul sito dell'Istituto nella sezione Orientamento. Non occorre prenotazione, ma si accede tramite link differenziati e diretti per l'Istituto Pertini-Montini Cuoco di Campobasso, presente in città con 5 sedi. Open day domenica 16 per il biotecnologico dalle 10 alle 12, per il liceo linguistico dalle 9 alle 13. Per l'Ipi a Montini, indirizzo manutenzione e assistenza tecnica dalle 9 alle 13, sempre di domenica 16. Stessi orari anche per l'Istituto Professionale Cuoco con i suoi tre indirizzi, servizi commerciali, web community, sociosanitario e odontotecnico. Sul sito internet della scuola anche un settore dedicato alla web, radio e tv che gli stessi studenti gestiscono. Porte aperte virtualmente anche al convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso, scuola primaria, secondaria di primo grado e liceo scientifico, si presentano domenica 16 in collegamento in dieta interattiva alla presenza del rettore Rossella Gianfagna dall'aula magna dello storico edificio nel cuore della città. Il link per l'accesso è sul sito dell'istituzione che propone anche le sezioni di orientamento, metodologie didattiche innovative al convitto in mostra. L'Istituto Comprensivo Petrone di Campobasso, in linea con una condotta prudente, dettata dall'attuale contingenza pandemica, converte in modalità virtuale il suo open day. tra gli appuntamenti, sabato 15 gennaio alle 16.30 alle 18, domenica 16 gennaio alle 16.30. La partecipazione è possibile attraverso un link di accesso al turno per il quale ci si è prenotati. Il link permette l'accesso all'ora indicata all'universo Petrone, come viene indicato dallo stesso istituto. E anche al Federico di Svevia di Termoli Open Day in corso, l'evento su prenotazione prosegue anche domani dalle 9 alle 17.00. Ora andiamo a Larino, dove è stata inaugurata la nuova sede della Biblioteca Diocesana, intitolata al Vescovo Viaggio d'Agostino, un luogo di studio e ricerca che si inserisce nel percorso di promozione di un polo culturale al servizio del territorio, con eventi in programma già da questo mese. Sentiamo ancora Andrea Nasillo. Inaugurata a Larino, la nuova sede della Biblioteca Diocesana porterà il nome di Monsignor Viaggio d'Agostino, il vescovo nato a Termoli, sempre vicino a questo territorio, fino all'ultimo giorno di vita, quasi 38 anni fa. Al taglio del nastro, autorità civili, militari e religiose, i lavori sono stati introdotti da Don Claudio Cianfaglioni, nuovo direttore della Biblioteca Diocesana, dietro di lui una squadra brillante e volenterosa. Questo luogo vuole essere non solo un luogo per coltivarsi, ma anche per coltivare. Proprio a questo scopo, già dalla fine di questo mese di gennaio, inizieranno una serie di iniziative che vedranno protagonisti quattro giovani della nostra comunità di Larino, con altre tanti docenti universitari, alcuni dei quali provenienti dalle università romane, che dialogheranno insieme ai quattro amori capolavoro di Lewis, l'affetto, l'amicizia, l'eros e la carità. La Biblioteca, quale il luogo della memoria, aiuta a coltivare se stessi prima ancora di coltivare gli altri, mettendosi a disposizione di tutti. Parola del direttore della Biblioteca Statale del Monastero di Santa Scolastica, a Subiaco, monaco benedettino e storico, il reverendo Fabrizio Messina Cicchetti. È un luogo che attraverso le sue iniziative, attraverso le iniziative di coloro che hanno letto, che hanno imparato, che hanno ricercato, che hanno studiato, possono poi fruire di tanti spunti e tante riflessioni che possono senz'altro arricchire le persone, le comunità formate appunto da persone, comunità sociale, la comunità ecclesiale di questa diocesi, che ha avuto il coraggio di dare alla propria Biblioteca diocesana una nuova sede. Il Vescovo d'Agostino ha lasciato una grande eredità in libri e ricerche. Il suo desiderio era che tutto fosse conservato in una Biblioteca diocesana, che ora è intitolata proprio a lui. La Biblioteca comprende circa 20.000 volumi, tra i quali meritano una particolare menzione ai circa 1.500 testi antichi, legati al periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo, presenti anche rarissime pubblicazioni strettamente legate al territorio dell'attuale diocesi. Ma la Biblioteca continuerà ad essere un luogo aperto alla ricerca e allo studio. Al termine dell'inaugurazione nel vicino museo diocesano, la restauratrice Francesca Di Giandomenico ha presentato per la prima volta al pubblico il restauro del dipinto murale Madonna con bambino a opera della sopridentenza del Molise. Era l'ultimo servizio, ma prima di salutarci un appello per i nostri amici a quattro zampe. Eccolo qui, questo cucciolo di Akita americano è scomparso martedì scorso, 11 gennaio, in Contrada Selva a Toro. Il cane è dotato di microchip, se qualcuno è in grado di fornire informazioni può contattare come sempre la nostra redazione. Termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale e vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise. Buonanotte.